Qui su RBE siete sempre all'ascolto di Play, il programma di informazione mattutino di questa emittente e come vi ho detto avremmo raggiunto Antigone, l'associazione Antigone, per farci dare un po' di chiarezza su alcuni aspetti quantomeno della vicenda di Alfredo Cospito e quindi in particolare raggiungiamo e salutiamo Alessio Scandurra che ritorna su queste frequenze, bentornato su RBE. Buongiorno. Allora voi avete, insomma questa intervista parte in particolare da un vostro dossier, anche se chiaramente non è questa la prima volta né l'unica che vi siete occupati di questo caso, ma insomma qualche giorno fa Antigone ha pubblicato un dossier sulla vicenda di Alfredo Cospito che molto semplicemente, ma lo dico tra molte virgolette, cerca di ricostruire tutto il percorso giudiziario insomma come siamo arrivati a questo punto, riuscireste a farci insomma un po' un riassunto, cioè noi parliamo del caso Cospito in maniera insomma forse molto generale, semplicistica, la vicenda è molto complessa invece ovviamente. La vicenda è molto complessa, abbiamo provato a riassumerla però rimane tecnica e contorta. Il punto di partenza forse che vale la pena esplicitare è il fondamento del 41 bis, l'oggetto della protesta di Cospito di Cospito è quello di essere stato sottoposto al 41 bis. Ora quello che generalmente non si dimentica è il fatto che il 41 bis è una misura che è noto come il carcere duro per i mafiosi, come se fosse una punizione speciale per autori reati particolarmente gravi. In realtà nella legge che lo istituisce, che poi lo ha modificato nelle circolari del Ministero è definito chiaramente come uno strumento di prevenzione della commissione di ulteriori reati, cioè si ritiene che esista un numero ristretto di detenuti per i quali le misure di sicurezza che ci sono in carcere, perché il carcere non è un luogo dove chiunque è libero di comunicare con l'esterno, in media sicurezza e nemmeno nei circuiti dell'alta sicurezza, non sono sufficienti ad impedire agli esponenti di vertice di queste organizzazioni di comunicare con la propria organizzazione di appartenenza e quindi di organizzare ulteriori attività criminali. Questo è l'unico presupposto, quindi il fatto che una persona è una relazione tra la persona e la sua organizzazione, cioè non è l'importanza dentro quell'organizzazione di quella persona, ma anche la capacità di quell'organizzazione, perché purtroppo bisogna prendere atto del fatto e stiamo parlando di organizzazioni, le organizzazioni per cui è nato il 41bis sono organizzazioni enormemente potenti, enormemente influenti, che hanno dimostrato di essere in grado di condizionare le decisioni di governi, di governi di regione, amministratori locali, industrie. Quindi l'interazione tra questi due gruppi è quello che a un certo punto cospito la cui vicenda giudiziaria l'aveva portato ad essere un detenuto in quella che si chiama AS2, quindi diciamo un regime comunque di alta sicurezza, ma appunto non nel 41bis, mentre era detenuto lì informazioni di polizia, diciamo le fonti informative su cui si basano queste decisioni, sostenevano che da lì stesse proseguendo la relazione con la sua organizzazione e quindi da qui il presupposto del trasferimento al 41bis. Chiaro, mi sembra di capire che già in questa prima risposta tu mi abbia dato un elemento per rispondere alla prossima domanda, cioè nello spiegare le ragioni dell'istituzione del 41bis, insomma descrivi uno scenario che sembra non essere così facilmente applicabile a cospito ed è per questo che si contesta questo tipo di regime per lui? Francamente diciamo che chi piglia queste decisioni ha in mano tutta una serie di informazioni che noi non abbiamo, quindi è sempre un po' difficile commentare, però pensare che cospito possa avere un ruolo di vertice e di prestigio dentro quell'organizzazione mi sembra assolutamente plausibile, che però quell'organizzazione sia così grande, così ramificata, così potente da non poter essere tenuta fuori da una sezione di alta sicurezza, questo mi sembra un po' più sorprendente e francamente ho un pochino il sospetto che si confonda, come dire, magari anche il malfunzionamento dell'ordinarietà di un sistema di sicurezza del carcere con diciamo una super, una forza superiore, una potenza superiore dell'organizzazione criminale, forse bisognava rimboccarsi le maniche per far funzionare il regime di detenzione ordinari, se il presupposto è quello previsto dalla legge, poi da sempre c'è chi sostiene, e secondo me in qualche modo ci sono numerose evidenze che il 41b sa anche tutta un'altra funzione che è quella diciamo di intimidire e spingere verso la collaborazione soggetti che hanno informazioni di grande importanza, di grande rilievo, allora in questo caso tutto il ragionamento che abbiamo fatto prima non sta più in piedi o comunque diventa laterale. In effetti l'ho sempre letto in questi termini, ho sempre letto descrizioni del 41bis in questi termini, cioè che fosse questa la principale funzione, non so se faccio una domanda troppo generica nel chiedere insomma uno sguardo complessivo sul regime di 41bis, l'associazione Antigone si occupa di diritti dei detenuti, un regime come quello del 41bis che è attivo ormai da molti anni, quindi abbiamo sott'occhio i suoi effetti da molto tempo, insomma al di là del caso cospito nello specifico è qualcosa che porta i risultati sperati, che dall'altro punto di vista mina qualche diritto fondamentale per i detenuti, insomma qual è il vostro sguardo su questo regime? Ma io dico sempre che è un po' complicato parlarne, perché comunque è un aggravamento di un'ordinarietà della detenzione sulla quale secondo me noi non ci siamo ancora fatti un'idea tanto chiara, nel senso che faccio un esempio, il detenuto comune fa una telefonata a casa alla settimana di 10 minuti, ha il detenuto a 41bis questa telefonata ridotta a una al mese, ma diciamo che forse anche l'ordinarietà della detenzione in qualche caso si configura come una compressione ingiustificata e quindi se quella è la normalità è chiaro il regime 41bis è un regime eccezionale, sono molto limitati i contatti con l'esterno, i colloqui avvengono dietro il vetro divisorio con tutti tranne figlie, nipoti di età inferiore ai 12 anni con i quali è possibile diciamo avere un minimo di contatto fisico e l'interazione con le altre persone è molto limitata perché praticamente si fa solamente quest'area assieme ad altri tre detenuti a 41bis e diciamo in carcere l'interazione con le persone è fatta anche dalle tante attività per cui il detenuto non passa tutto il tempo con altri detenuti, passa il tempo anche con insegnanti, con volontari eccetera, tutto questo a 41bis non c'è e quindi è molto limitato e pochi oggetti, pochi, anche pochi diciamo limiti nel accesso all'abbigliamento, accesso al cibo dai familiari, quindi molte restrizioni in un ambiente ad hoc, quindi dove ci sono solamente altri detenuti di quello spessore criminale e un reparto di polizia penitenziaria specializzato per la gestione del 41bis per cui alla fine diciamo rende tutto molto diverso, studi sugli effetti del 41bis nel lungo periodo consideriamo che viene applicato per tantissimo tempo, la maggior parte delle persone che nel corso del 2022 sono uscite dal 41bis, non sono uscite perché sono state declassificate, sono uscite perché sono state scarcerate per cui in qualche modo o una pena è arrivata in fondo perché ovviamente non sono tutti alcestolani oppure c'era una misura cautelare che è stata revocata, quindi diciamo spesso dopo molti anni se ne esce perché si esce in galera, non perché si passa a un altro regime. Studi in Italia io non ne conosco, però ci sono molti studi in mente inglese e americano sugli effetti della deprivazione nel lungo periodo della socialità, degli spazi eccetera e documentano danni alla salute irreversibile. Chiaro, quindi se insomma già quando parliamo nel complesso delle detenzioni del sistema carcerario in Italia in relazione a insomma vedere il carcere come forma di reinserimento della società, di percorso di reinserimento della società, insomma se già per il resto delle detenzioni questo argomento è molto traballante, quando parliamo di 41bis siamo proprio su un altro pianeta mi sembra di capire. Sì e appunto ripeto si immagina comunque una popolazione che non uscirà mai, non è così, non è così perché comunque conta il ruolo attuale o presupposto dentro l'organizzazione criminale, non conta il reato commesso, poi alla fine il processo può anche dire che il reato commesso non c'era o era, insomma meritava una pena a termine. Chiaro, chiaro, insomma potremmo parlarne a lungo ma i tempi radiofonici stringono, in ogni caso sono temi appunto molto complessi e poi a un certo punto si arriva nel campo delle opinioni ovviamente che sono appunto, vanno raccontate ma sulle quali ci si può dilungare a lungo, quindi magari ci riaggiorniamo per il futuro, noi sentiamo molto spesso attivisti di Antigone, ringraziamo in questo caso Alessio Scandurra che ha fatto chiarezza su questo caso, grazie mille e buona giornata. A presto, grazie.